Coppa, salame, pancetta, parliamo dei salumi piacentini DOP, sono quei prodotti particolarmente buoni anche perché lì c'è un clima tipico per ottenere quei risultati. Parlando con una nonna piacentina mi diceva lei non sa che i nostri maiali hanno anche una grossa tradizione, c'è anche i greci che ne hanno parlato, come? Sì perché del maiale se ne parla per esempio anche quando Ulisse ritorna dopo il lungo e periglioso viaggio ad Itaca e io ho chiesto e che succede? Beh quando lui rientra ad Itaca chi incontra? Un porcaro e col porcaro per festeggiare che cosa fa? Proprio prende un maiale e lo degusta, lo prepara nel modo più giusto. Ecco capite quindi come la tradizione a Piacenza ci può essere legata a questi salumi che da sempre sono apprezzatissimi. Io guardavo qua fra l'altro che ci sono anche delle tracce di epoca pre cristiana legate proprio a dei prodotti, a dello stile di come si faceva a degustare il cibo, il maiale nel piacentino e per arrivare successivamente addirittura anche a dei dipinti medievali dove si notano e si apprezzano proprio lo stile dell'arte, della macellazione del maiale. Abbiamo tracciato questa storia ma adesso vogliamo dare una citazione di un famoso dotto scrittore piacentino, amante chiaramente della sua terra, è Giulio Landi, la scritta nel 1542, sentite come ne parla. Tanto è di eccellente qualità il sale piacentino di che ne fanno fede i cervellati, le mortadelle, i sanguinacci, i zambudelli e le salsicce e ogni altra sorta di salame che qui da noi le donne fanno, il quale è delicatissimo e di ottimo gusto e certo sono i migliori salami che in Italia si facciano. Insomma il salame è una eccezionalità che addirittura è stata utilizzata come strumento di diplomazia nel 700 dal cardinale Giulio Alberoni in piacentino che per ingraziarsi i potenti dell'epoca che faceva regalava i salumi di Piacenza. Dobbiamo dirvi a nord del vero che ha avuto una grandissima carriera, ottenne grandi amicizie e soprattutto riuscì a fare quello che voleva con il regalare semplicemente dei prodotti come questi che sanno del sapore della nostra storia.